Psicologia delle masse e analisi dell'io è un'opera di Sigmund Freud pubblicata nel 1921 in cui vengono descritti i meccanismi psicologici attivati nel gruppo o massa in azione. Una massa, secondo Freud, è un'entità provvisoria costituita da elementi eterogenei saldati assieme per un istante. Con tale definizione fa riferimento agli scritti del sociologo e psicologo Gustave Lebon. che nasce nel 1841 e muore nel 1931, di cui riassume il lavoro all'inizio della sua opera. In particolare il saggio del 1895 intitolato Psicologia delle folle. Come Lebon, anche Freud afferma che, inglobato in una massa, l'individuo acquisisce un senso di invincibilità che lo porta a dar sfogo a istinti che terrebbe a freno invece se dovesse agire come un individuo isolato. Questo perché il senso di responsabilità che normalmente trattiene gli individui può arrivare a scomparire del tutto quando questi si trovano all'interno di una folla. Secondo Freud queste sensazioni di potere e di sicurezza consentono all'individuo non soltanto di agire come parte della massa ma anche di sentirsi protetto quando si trova al suo interno. Questo farebbe entrare l'individuo in quello che Freud chiama stato ipnotico, ossia una perdita di coscienza della propria personalità così da renderlo facilmente contagiabile da qualsiasi emozione circoli all'interno della massa. Quindi allegria ma anche rabbia, odio, eccetera. Queste emozioni vengono anche amplificate tramite un processo che Freud definisce di induzione reciproca che rende la massa, e qui cito dalla sua opera, impulsiva, mutevole e irritabile controllata quasi esclusivamente dall'inconscio. Fine citazione. Inoltre, importante, questa induzione reciproca fa sì che i suoi bisogni, i bisogni della massa non corrispondano quasi mai all'interesse del singolo individuo, né a quello dell'autoconservazione, cosa che ovviamente è molto pericolosa. Freud distingue tra due tipi di masse. Una è in genere di breve durata, caratterizzata da un interesse rapido e transitorio. Ad esempio, una massa che nasce in risposta a particolari tendenze o avvenimenti, come una manifestazione di protesta o un'aggregazione spontanea per festeggiare il risultato di un evento sportivo. L'altro tipo è invece di tipo permanente ed è altamente organizzata. Freud fa l'esempio della chiesa o dell'esercito. Concetto molto importante è che, secondo Freud, nonostante questa fondamentale diversità tra i due tipi di masse, in ogni massa si possono osservare all'opera gli stessi fondamentali processi mentali. Quali sono questi processi? Allora, facendo riferimento alla sua teoria degli istinti, Freud ritiene che le masse siano tenute insieme da legami libidici. Nel senso che ogni individuo presente in una massa agisce in base a impulsi libidici deviati dal loro obiettivo iniziale, cioè l'unione sessuale, verso il raggiungimento di altri scopi. Allora, abbiamo parlato di legami libidici, quindi ricordiamo che nel pensiero di Freud il termine libido non indica semplicemente il desiderio sessuale, come invece accade in sessuologia o nel linguaggio comune, ma rappresenta invece la pulsione principale, se non l'unica, di natura puramente sessuale. Quindi, ricordiamo anche che, sempre in Freud, la pulsione è uno stato di tensione che promuove i processi psichici, premendo sull'individuo e spingendolo a sviluppare quei comportamenti che permettono una scarica della tensione stessa. In una massa, il capo ha un ruolo importantissimo in quanto è un elemento legante e vincolante per tutti i membri del gruppo, che si identificano gli uni con gli altri, in gran parte in maniera inconscia, proprio grazie al legame istituito con il capo. In altre parole, secondo Freud, l'io di ogni membro percepisce una somiglianza significativa con gli altri individui all'interno del gruppo, cioè l'ammirazione e l'idealizzazione del capo, cosa che gli consente di identificarsi con essi. Abbiamo parlato di io, quindi ricordiamo che, secondo Freud, l'io è un'istanza psichica, cioè una struttura organizzatrice che ha il compito di mediare pulsioni ed esigenze sociali, rappresentate, quindi pulsioni ed esigenze sociali, da altre due istanze in conflitto fra loro, cioè le pulsioni sono rappresentate dall'ess e le esigenze sociali dal superio. Bene, questo è tutto, spero che abbiate trovato il video interessante, se volete fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione, alla prossima!